Bruno, Bruno! L'ultimo! E' venuta in mente quella del Castagna, sapete che la Castagna è un cerco pugilistico, è il cazzotto? E' uno che chiamano il Castagna, è un pugile. Lo stanno a aspettare, tutti gli amici al bigliardo stanno a giocare. Ma il Castagna? C'è l'incontro stasera, ha detto che si sbriga subito e arriva. Iemena? Passano ora, dice, ma il Castagna? Passano un'altra ora, ma il Castagna non si vede, dice. E voi si vede che andate a festeggiare qualche altra parte. Dopo un'ora andammo via, stavano andando in via, invece si sente delle scale che scende. E' il Castagna? Il Castagna? Come va? Era tutto un ingessato, un braccio, una bocca, l'occhio qua gonfio, tutta. Una cicatrice qua, che camminava tutta su. Com'è nato l'incontro? Ehm, com'è nato? Guardate, eh. La prima ricorrezza? Questo mi è nato, eh. E io mi studiavo. Mena, mena, dove vai, pettetti? Mi studiavo, quello, pow, mi ha dato. Si vede? E ammazza di si vede. A un certo punto era un cazzotto qua che mi sloca tutta la spalla. Ma io non ho studiavo. Finisce la prima ricorrezza, mi ha detto, arriva un po' prima, ho studiato, ricominciavamo. Scusate i denti. La seconda? Beh, mi cominciavamo e io studio, studiavo, studiavo, c'era fuori proprio. Ero proprio un marecivo, però ah, ho studiato. La terza ripresa ho fatto cagassotto, se credeva che ero morto. Allora, vi licenzio, ok? Perché ero un po' borgare, magari. Esatto. Beh, andiamo a lavorare.